Sorpresi in A1 dalla polizia stradale di Arezzo con una pistola carica e ben 86 proiettili a disposizione. Sono così finiti in manette un 29enne ed un 50enne, entrambi originari della campania. È successo lo scorso martedì notte quando una pattuglia della sottosezione di battifolle ha intravisto nell'oscurità una punto nera nei prezzi di Civitella in Val di Chiana. I poliziotti insospettiti hanno così deciso di fermare l'auto intimandogli l'alta ed indirizzandoli verso un'area di parcheggio. I due prima hanno fatto finta di entrarci ma poi all'improvviso il conducente ha sterzato per sottrarsi così al controllo ma gli è andata male perché la pattuglia li ha affiancati in modo da chiudergli ogni via di fuga costringendoli così a fermarsi. A seguito di meticolosi controlli gli agenti hanno trovato sotto il sedile una revolver calibro 38 con il colpo già in canna e la matricola brasa nonché 86 cartucce. Alla richiesta di spiegazioni i due malviventi pregiudicati per rapine falso sono rimasti in silenzio. La Polstrada li ha così arrestati per retenzione di arma clandestina sequestrando loro la pistola, cartucce ed infine l'auto. Adesso gli investigatori dovranno risalire al proprietario dell'arma nonché verificare se sia stata utilizzata per commettere altri misfatti.